Endless love anticipazioni. Zeynep assiste, nascosta nell'ombra, a un incontro che cambierà per sempre il corso degli eventi. Leila e Onder, faccia a faccia dopo anni di silenzio. La voce tremante di Onder confessa un'angoscia profonda, una vita infelice e solitaria seguita alla loro separazione, aggiungendo una complessità inaspettata alla già intricata trama. Ma cosa significa veramente questa confessione? Mentre la famiglia Soidere si ritrova al commissariato, una notizia sconvolgente li travolge come un uragano. Tariq è stato scagionato dall'accusa di omicidio. Grazie al rapporto della scientifica e all'abile intervento dell'avvocato di Emir, l'innocenza di Tariq viene provata. Ma mentre la verità emerge da un lato, dall'altro si insinua un segreto ancora più oscuro. Zeyr ha rintracciato Nursen, la donna che da anni custodisce il più grande segreto di Galip. Kemal e Nian si precipitano da lei, ansiosi di scoprire la verità. Con il cuore in gola, Nursen finalmente parla. Non fu un suicidio. Mushgan non si gettò dal balcone, fu Galip a spingerla. La rivelazione colpisce come un fulmine, travolgendo ogni certezza. E ora, con questa nuova, terribile verità, tutto è destinato a cambiare. Cosa succederà? Kemal affronta Emir con la rivelazione che suo padre aveva istigato il suicidio di Mushgan, solo per scoprire che lei non morì, ma rimase paralizzata. La scioccante rivelazione che Emir ha un fratello segreto getta ombre ancora più cupe sulla famiglia. Nel frattempo, Onder lascia la casa, e Asu, desiderosa di approvazione, chiede a Leila se sostiene il suo legame con Kemal. Leila, senza esitazione, risponde che l'amore tra Kemal e Nian trionferà sempre. Ma la pace è breve. Leila, dopo una telefonata accesa con Vildan, avverte Onder di lasciarla in pace. E proprio quando pensi di sapere tutto, un nuovo colpo di scena emerge. Emir, disperato, irrompe in casa di sua madre, strappandole la maschera di ossigeno per ottenere risposte sul misterioso figlio. Ma Mushgan, con rantoli e sospiri, non riesce a rivelare nulla. Kemal continua a interrogare Nursen riguardo al figlio di Mushgan. La donna, convinta che Mushgan non abbia mai avuto un amante, afferma che il figlio fu concepito con suo marito. Ma è davvero così? Siamo solo all'inizio di una notte piena di rivelazioni e intrighi. Nian segue con il cuore in gola Kemal e Zehir, osservandoli mentre entrano in casa di Sedat. La tensione è palpabile quando scoprono il certificato di morte di Mushgan Kotskoglu. Ma cosa svelerà questo documento? I due uomini, con l'animo in tumulto, apprendono che una testimone aveva assistito al tentato suicidio di Mushgan. Decidono di rintracciarla a tutti i costi. Nian, decisa a non essere più esclusa, supplica Kemal di coinvolgerla nella ricerca di Nursen Haran, la donna che potrebbe svelare la verità. Ma le sorprese non finiscono qui. Più tardi, Asu informa Kemal della visita di Nihan, scatenando la sua ira. Non prendere mai più decisioni al mio posto. Nel frattempo, Zeynep assiste a un incontro carico di emozione tra Leila e Onder, dove lui confessa di aver vissuto una vita infelice dopo la loro separazione. La tensione familiare aumenta quando Vildan, dubbiosa dei sentimenti di Zeynep per Ozan, affronta suo marito dopo aver scoperto dell'incontro. La famiglia soidere riceve finalmente una buona notizia. Tariq è stato scagionato grazie al rapporto della scientifica e all'intervento dell'avvocato di Emir. Ma le ombre del passato non lasciano spazio alla tranquillità. Zeynep rintraccia Nursen, che rivela scioccanti dettagli su Mujgan e il presunto suicidio. La verità è devastante. Galip aveva spinto Mujgan dal balcone. Sei sorpreso quanto noi? Lascia un commento qui sotto. Mentre Galip, furioso, ordina a Hakki di licenziare Kemal, Hakki si oppone e decide invece di trasferire le sue quote aziendali a Kemal. Durante una riunione del consiglio, questa decisione viene annunciata, provocando la resistenza di Kemal, che però non riesce a cambiare il corso degli eventi. Asu, determinata a mantenere Kemal lontano da Nihan, chiede a quest'ultima di rispettare la promessa di stargli lontano. Ma Niyan ha altri piani. Convince Zehir a collaborare segretamente nella ricerca delle registrazioni. Emir, in preda ai fumi dell'alcol, irrompe nella stanza dove Zeynep e Ozan guardano un cartone animato. In un momento di intimità, Zeynep lo affronta, rivelando che la sua crudeltà deriva dalla sua solitudine. Colpito dalle sue parole, Emir se ne va. Kemal è convinto che il misterioso ricattatore di Emir sia Tufan e sospetta che lui sia il fratello segreto di Emir. Per dimostrarlo, decide di fare un test del DNA, procurandosi campioni sia di Emir che di Tufan, con l'aiuto di Nihan. Asu, decisa a sposare Kemal a tutti i costi, si allea con Zeynep, che ancora ama disperatamente Emir. Nihan, impaziente, decide di proseguire da sola nella ricerca delle registrazioni menzionate da Tanner. Onder, tornato a casa, non chiede perdono come sperava Vildan, mentre Zeynep ed Emir si abbandonano a una relazione clandestina, rischiando di essere scoperti. Con una chiave antica in mano, Kemal e Nihan si recano alla stazione di Sirkeci, dove trovano una chiavetta con la registrazione della fatidica notte. Scoprono che Emir aveva simulato la morte di Linda. Nihan, armata della verità, mostra il video a Emir e decide di lasciarlo. Nel frattempo, Tufan scambia la provetta del suo sangue con quella del suo misterioso mandante, mentre Emir denuncia la scomparsa di Linda, sospettando inizialmente del suo ricattatore misterioso, Galip. Ma quando scopre che non è lui, chiede aiuto al padre per scoprire la vera identità del suo nemico. La notte è colma di segreti e tensioni, e ogni angolo nasconde una verità che aspetta solo di essere svelata. Nihan tenta disperatamente di rassicurare Ozan. Non ha commesso nessun omicidio, e affrontare la verità sarebbe liberatorio per tutti. Ma Ozan, paralizzato dalla paura, rifiuta di aiutarla. Cosa nasconde davvero questa angoscia? Leila scopre che i suoi sospetti erano fondati. Ci sono state irregolarità nell'asta della sua casa, che ora deve essere annullata e nuovamente bandita. La notizia raggiunge le orecchie di Galip, che infuriato, si presenta minaccioso da Leila, accusandola di essere la causa di tutto. Leila però non si lascia intimidire. È pronta a combattere fino in fondo per riavere la sua casa. Zeynep, come un'ombra silenziosa, origlia dietro le porte e pone domande astute per mettere insieme i pezzi mancanti. Perché Ozan è così disperato per il divorzio di Nihan da Emir? Intanto, Nihan e Kemal, rassicurati dall'avvocata sui tempi brevi del divorzio, iniziano a sognare il loro futuro insieme. Nel frattempo, Vildan si presenta a casa soidere per parlare da madre a madre con Feime. La tensione tra le famiglie cresce, mentre Kemal riceve una lettera dal ricattatore di Emir, dichiarando di non voler essere trovato. Kemal, stanco e frustrato, decide di interrompere la ricerca. In un luogo segreto, Asu si intrufola nella stanza d'ospedale dove sua madre, Mujgan, è sedata su un lettino. Anche se la donna non può sentirla, Asu le confessa la sua sete di vendetta contro Galip, il suo vero padre, e la sua intenzione di colpire direttamente Emir. Da bambina, Asu era stata addestrata da Haki per questo momento. E ora, finalmente, è giunto il giorno della vendetta. Ma quando Emir scopre che Nian sta per chiedere il divorzio, decide di giocare la sua carta più oscura. Mostra a lei e a Kemal il filmato in cui si vede chiaramente Ozan sparare a Linda la notte dell'omicidio. Nian, sotto il peso del ricatto, ritira la causa di divorzio per proteggere il fratello e torna a casa con Emir. Il loro amore sembra allontanarsi sempre di più. Asu, tormentata, chiede a Tufan di non portare avanti il piano di vendetta contro Emir. Nonostante sia giunta l'ora che ha tanto atteso, non è disposta a perdere Kemal. Ma cosa succederà adesso? Resta con noi, lascia un commento e preparati per il prossimo episodio, perché è solo all'inizio.